signor Giovanni Rana che sorpreso io ho portato i miei nuovi sfogliavelo al brasato li prepariamo subito allora? questo è un vero contadino magari, io lavoro in banca una nata meravigliosa che buoni così si sente tutto il ripieno il brasato è proprio come lo facciamo qui in Piemonte carne cotta lenta lenta, verdure, sedano, carotte e cipolle che lei ha qualche antenato piemontese sfogliavelo di Giovanni Rana un giorno si e un giorno si grazie